signora concetta ma questa è la sua moto ape ma da quanti anni la guida la moto la moto ape le oggi ha più o meno 90 anni possiamo dirlo 90 anni fatti e guida ancora questa moto ape speriamo che non la va dentro speriamo se non ci dico muovendo l'ape non posso più guidare mi ho dato un cane e poi sei giovane lei con la moto ape va ancora in campagna vero faccio quello che posso si prende cura della terra la terra regala tanti frutti ecco tutto viene dalla terra ma è difficile guidare la moto ape le gira per le viuzze del suo paese quindi tranquillamente se vado pure da già a monforte marina che alla campagna mio fratello aiuto per lui la campagna faccio qualcosina così non morto non morto però si tiene sempre in movimento non si ferma mai questa ferma mori complimenti alla signora concetta e noi chiudiamo questo video mostrandovi il presepe allestito dalla signora concetta all'interno di un palmento di famiglia ecco questo era il palmento che oggi ospita la natività tanti dettagli da ammirare all'interno di questo palmento che si è trasformato in un presepe artistico facciamo i complimenti alla signora concetta che ogni anno rinnova il suo presepe scriveteci nei commenti da dove ci state seguendo e naturalmente vi invitiamo anche a condividere il video ecco qui altri personaggi di questo presepe allestito dalla signora concetta in un palmento signora concetto signorai signora signora signora